Scopri Fruio Faye, autentico yogurt greco con gustosi pezzi di frutta, denso, cremoso, 0% grassi, incredibilmente goloso. Fruio è lo yogurt di frutta dove senti lo yogurt e senti la frutta. Da Faye, numero uno dello yogurt in Grecia. Fruio Faye, lo yogurt di frutta a regola d'arte. Fruio Faye, lo yogurt di frutta a regola d'arte.